appassionati di gaming oggi vi parlo di queste cuffie le msa immerth gh50 vediamole subito insieme si tratta di cuffie circumaurali che avvolgono completamente l'orecchio sono realizzate in metallo e plastica di buona qualità e sono adatte sia per le sessioni da gaming sia che per la semplice riproduzione di contenuti audio o media il design in total black è caratterizzato dal logo msi sui padiglioni sotto i quali sono presenti led rgb personalizzabile tramite il software dragon center e mystic light perfetti per donare un po di colore al vostro desktop i padiglioni sono abbastanza comodi e ben isolati l'archetto presenta una imbottitura in pelle sintetica e regolabile come potete vedere la struttura interna è completamente in metallo il peso delle cuffie è di circa 300 grammi e i driver sono da 40 mm inoltre queste cuffie sono dotate di microfono unidirezionale il quale è rimovibile e si collega tramite jack da 3,5 mm al padiglione sinistro ma passiamo ora a parlare della qualità dell'audio msa indica come range di frequenza dai 20 hertz ai 20 kilohertz l'impedenza è pari a 32 home mentre la sensibilità di 109 decibel con uno scatto di più o meno 3 decibel il microfono invece una sensibilità di meno 36 decibel o più o meno 3 decibel con una risposta di frequenza di 100 hertz o 10 kilohertz è un'impedenza pari a 2,2 kg è possibile collegare le msa immerse gh 50 al pc tramite l'usb 2.0 il cavo presente in confezione è lungo 2,2 metri ed è dotato di alcuni controlli a filo come la possibilità di attivare o disattivare il microfono semplicemente premendo un pulsante inoltre è possibile regolare il volume abilitare il surround 7.1 virtuale e attivare il sistema di vibrazione quest'ultimo permette di migliorare l'esperienza gaming rendendo il gioco più immersivo in quanto va ad enfatizzare le basse frequenze nella confezione trovate inclusa anche una comoda e pratica custodia potete trovare le cuffie msa immerse gh 50 subito in power puntocom cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciarci un bel pollice in su e se non l'avete ancora fatto anche di iscrivervi al nostro canale youtube mettere mi piace la pagina facebook e seguirci su instagram ciao e alla prossima